Aspetta, aspetta, aspetta. Fermi tutti. Tu hai fatto cosa? Ho scritto un romanzo. Tu hai scritto un romanzo? Un libro vero? Sì. Un libro vero? Sai, di quelli con le parole, le pagine, che spogli. Oh, merda. E dove cazzo ero io mentre tu scrivevi questo libro? Scusa. Chi lo sa? Da qualche parte, qui dentro. Figlio di puttana. Stai, non leggilo prima di incazzarti, che magari ti piace pure, dai. Sì, vabbè, sti cazzi. E di cosa parla sto libro? Beh, violenza, droga, razzismo. Hai ambientato un libro che parla di droga, di violenza e di razzismo a Verona? Sì, nella mia città. Non avrei mica sputtanata, aspetta. Frena. Innanzitutto è anche la mia città. Seconda cosa, non ho sputtanato un bel cazzo, ok? È solo un romanzo. Piantala. Ok, 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 ok. Sorvoliamo. Ragazzi, dobbiamo assolutamente rientrare qui come stai. Per tanto, comprate questo libro. Ma per l'amor del cielo, non leggetelo. Non leggetelo. Io ho fatto un film.